belleri da oltre 40 anni si occupa delle due ruote dei bresciani belleri cicli e motocicli è concessionaria chimico in via corsica 2022 trovate lo showroom e l'officina belleri con un'ampia scelta e un servizio impeccabile qualità esperienza e professionalità sempre a disposizione del cliente più esigente durante l'anno tante promozioni pieni d'occhio il sito www.belleri.net belleri cicli motocicli e scooter è in via corsica 2022 a brescia telefono 030 22 22 74